Oggi abbiamo incontrato una delegazione del comitato di alluvionati di Ceva insieme al SIN, insieme al vicepresidente del consiglio Franco Graglia. Era doveroso venire a Ceva dopo gli eventi dell'ottobre, era anche doveroso spiegare quello che sta facendo la regione e quello che sta facendo il comune. È evidente che dopo tante alluvioni non si può più temporeggiare, gli interventi devono essere fatti, ci sono fondi del Ministero dell'Interno che sono stati distribuiti in maniera un po' assurda e non in base alle esigenze ma in base solo ai bilanci dei comuni, quindi sono stati premiati i comuni in disavanzo. Noi lavoreremo sia politicamente che come giunta regionale per cambiare questa norma ma certamente anche per mettere a disposizione tutto il nostro know-how, tutta la nostra intelligenza ma anche le nostre risorse per evitare che queste cose possano recapitare e soprattutto per dare una mano al comune di Ceva e tutti i cittadini della Valle Tanaro, sia con progetti di piccolo cavotaggio di breve periodo ma anche con progetti più strutturali che su tutto il bacino del Tanaro e del Tanarello possano sistemare la situazione.